E' naticità, affidabilità, ferma, gran bel rivolto. Ecco i segni distintivi degli abilissimi setter di Andrea Mariani. Appassionanti azioni di caccia nei luoghi più suggestivi d'Italia ed Europa. Una bella squadra da cotonisci, molto molto divertente. Live Hunting Emotion sesta stagione, i nuovi episodi. Dal 2 luglio ogni giovedì alle 22 su Caccia, canale 235. Grazie a tutti.